Scusate, sono vecchi che c'è bello. Eh? Guarda come me è bello. Non guarda come me è bello, sto facendo. C'è da stare a me la custodia, eh? E tenete notte, è mezzogiorno e mezzo, eh? Dove mi do? Samira, dai, io, senta mezzo. Sì, ok. Guardalo, guardalo, guardalo. C'è... Gianca, c'è YouTube, eh? Eh, c'è, c'è... Come va? Faccio una direzione. C'è un biglietto da mille, va. E' un biglietto da mille, va. Un biglietto da mille per YouTube, se mi bordo, mi cascina anche la gazzetta. Ma, con contatto di sconti. Ha vinto mille euro, si può vedere. Ah, questo è un bar importante, si dice mille euro. Si dice mille euro, ma è dare in terra. Se l'ha bisogno, vede. La zalla, la mia stessa. E' supergio. Allogio, allogio. Allogio. Allogio, basta, se non si manca.